La denominazione è molto accattivante, luogo della gentilezza. Per saperne di più e soprattutto come funziona, ci siamo recati presso la casa dei servizi Giovanni Azzaretti. Il luogo della gentilezza nasce da un'idea del Sovolus Varzi, sostenitore ospedale Varzi della sua Presidente Marisa Bravi e dell'assessorato ai servizi sociali di Varzi e con l'assessore Antonella Cristiani. È un luogo che io dico essere un luogo di dignità, dignità per tutti coloro che sono in difficoltà, in particolare nasce per dare una mano concreta ai profughi ucraini che sono dovuti scappare da casa loro, scappare da una guerra, sono arrivati qua anche numerosi ed è un luogo che ha aperto tutti coloro che hanno bisogno, tutti i cittadini che possono recarsi qui in modo assolutamente anonimo per prendere beni di prima necessità. I cittadini varzesi con grande senso di solidarietà hanno donato moltissimi beni di prima necessità, vestiti, giocattoli che sono stati proprio messi all'interno di questo luogo della gentilezza. Anonimato, ma come procede? Ci sarà comunque qualcuno ad assistere? Assolutamente sì, come dicevamo l'assessorato ai servizi sociali, i nostri volontari, la Sovolus, l'Auser, che in giornate prestabilite verranno aperto questo luogo della gentilezza dove le persone bisognose potranno entrare in assoluto anonimato e potranno scegliere ciò di cui hanno bisogno in maniera dignitosa perché noi non facciamo in modo che chi ha bisogno venga a frugare all'interno di scatoloni, all'interno di sacchi, ma è tutto esposto come se fosse un negozio e quindi proprio un luogo di dignità che possa aiutare chi ha bisogno. Allora, da questa parte ci sono le scarpe per i bambini, l'abbigliamento per i bambini, poi abbiamo i cappottini e i piumini sempre per i piccoli, pantaloni e giacche da uomo, giacche da donne, cappotti, vestiti, là in fondo ci sono i jeans, qua le scarpe da adulti, maglioni, giochi e libri. È stata disposta così per una questione di dignità. Quindi un signore viene e dice io ho bisogno di un paio di scarpe e... Le sceglie, di là abbiamo il magazzino ovviamente perché qua non ci può stare tutto, man mano che scelgono qualcosa... Rimpiazzate. Le rimpiazziamo, sì. Muzica Grazie per la visione!